Novità dal prossimo mese di settembre per il servizio di ristorazione scolastica a Figline Incisa. Il Consiglio Comunale infatti ha votato una delibera che decide un'organizzazione diversa ed uguale per entrambi i centri. Intanto ci sarà un gestore unico. Fino ad ora nei plessi di Figli nella Mensa è stata affidata ad una ditta esterna che confeziona estremamente i pasti e li porta nelle scuole. Ad Incisa invece vengono preparati direttamente sul posto. Differenziazione anche nelle tariffe. A Figline si paga una cifra, ad Incisa un'altra. Pure da questo punto di vista si terrà un'unificazione, come sarà uguale per tutti i bambini, anche il menù. I piatti verranno cucinati nelle postazioni presenti nei plessi scolastici. L'amministrazione comunale indirà una gara europea per disegnare il nuovo gestore unico per le menze scolastiche. L'azienda vincitrice metterà a disposizione del servizio il proprio personale. Insomma, dal prossimo anno si cambia. Ovviamente l'intento dell'amministrazione comunale è quello di migliorare il servizio del quale fruiscono i piccoli filinesi ed incisani.